Per noi questa legislatura è uno spartiacco, è la tragica fine della Seconda Repubblica degenerata in bipopulismo e voglio qui dire che spiace che i partiti eredi delle grandi famiglie politiche europee, popolari e socialdemocratici, abbiano in questa legislatura e nella campagna elettorale che inizia ha deciso di sottomettersi a sovranisti e populisti.